Bene ragazzi, carico mai da SB301 Oggi ragazzi, primo video su Clash of Clans Anche se già ho fatto un po' di modifica Qua nel mio villaggio Dentro le mura qua E dobbiamo fare, poi quando finisco il cerchio Altre, quindi farò altre mura Li porterò tutti al 4 A livello 4 di mura E quindi Dando qua, abbiamo finito In danno, ci avrei delle missioni del Clans Qua di romper, ma Dico, leva 20 minuti, ma qua fanno 13 Vabbè Sto qua nel villaggio comunque ci gioco Qua ci gioca, infatti ci gioca di più Sono TH6, però Voglio farmi TH7 Al più presto possibile Ehm, bello c'è la miniera a livello 8 In fare tutte Sì sì, tutte Tranne una Che l'ho costruita da poco Oh, 9.900 Quindi direi di fare così Magari più tanto per 5 gemma Che mi interessa però 10.000 all'oro 10.100 All'ora Quindi portiamola al 4 Spendiamo altre Queste gemme Tanto E basta perché Mio Dio, magari io Ok, e ora qua le portiamo Al 6 Poi all'otto E poi tutto il ciclo 9 10 Quando si finiscono tutti C'è l'icolo di noi Che me li posso fare al 10 Tra poco E quindi Iniziamo qua Facciamo Un attacco Tra una partita Voglio attaccare Io già dentro Però siccome In giapponese In cinese Quello che è Li attacco da dentro Perché mi fanno antipatia In cinese Mangano le bombe Ah, vabbè Tanto Forte sega Ok No, l'ho vista Non ci credo Per quello Addio game Perché ho fatto Una grande cavolata Perché Non l'avevo visto Che c'era La torre dello stregone Là Però ci sono i giganti Che qualcosina Fanno per me In onda E TH Bye bye Perfetto Non facciamo Più danno possibile Andando Poi prendiamo Un tè Un cocio Un cannone Ora abbiamo Solo i giganti Perfetto Quindi possiamo dire Che ha perso Perché i giganti Vanno Oh mio dico Vanno troppo lenti Guarda Avanti che rompono Un muro I giganti Qua Magic Guarda Boom Dove stanno andando Ah Lì c'è un altro Cando Madi Sono due Lai Giga Ok Vabbè Tanto Dove è rompere Sono il muretto Madonna No Stanno Mare Non ci credo Sta torre Del merda Del mago Di merda No Non ci posso Vabbè Sembra una stella Attenzione Ragazzi Ma è mio Quattro e tre ore Guardate Guardate Sti stupidi Cannoni Non li posso Vedere E poi Quando spara Raffica Il suo Bobum Bobum E sbrigate Mangano 50 secondi Deve fare Un attacco Più Complesso Peccato Peccato Facciamo Un po' Quando prendiamo Prendiamo Non mi interessa Tanto C'è un po' Di soldi E di elisir Beh Trenta secondi Che un po' Di più Della vita Peccato Poteva essere Un bell'attacco Poi è finita Vabbè E' andata così Peccato Anzi E' vittoria Anzi Ok Intanto Che cosa c'è Che vuol dire Che vuol dire Ah però Che vuol dire Non capisco niente Inti Faccio Faccio L'esercito Dovrei fare Il volanò Però costa Troppo Mezzo milione Adesso Facciamo Un po' Di truppe Facciamo 8 giganti Tutti Sti Barbari Tranne 5 Che lasciamo Alcieri Ricerchiamo Vediamo Che possiamo Lo miglioriamo Allora Intanto Ma quando Ma che dobbiamo fare Ora Potrei fare Qualcosa Altro Intanto Però Siccome Non c'è Un'applicazione Per montare Le clip Io vorrei Finire Ora Però Poi Mi spendo Che è Troppo Piccolo Avete capito Troppo Costo Il video E quindi Vabbè Facciamo Un attacco Qua Mi ero scordato Che è anche Qua Ma tanto È sempre Perso Che vi Devo Dire Cookie Si chiama Questo Cookie Chilliamoli Tutti Chilliamoli Tutti Madonna Ho scatenato Il delirio Ok Veramente Abbiamo fatto Un piccolo Assedio Abbiamo Assediato Un po' Eh Nica Niente Pensavo Peggio Io Invece Avevo Fatto Bene Buona Serio Sì Vabbè Quello È morto Vabbè Niente C'è Arcieri Nozzi Dai Povero Arcieri Cookie Si chiama Biscotto Questo Ma Chi è Davvero Vabbè Vabbè Buono 93% Però Ma Cosa Il cannone Sì Che Mi sta Facendo Pochetto Mi sa Scusa Molte Villaggio Tanto C'è I Bernardini Ancora 45 Sì Ma Petardi A che Servono Ah Quanto Vi odio Petardi Non Sparo Ah Ah Ok Almeno 50% È lui Devo stare Attenti Per favore Non voglio Perdere Adio Amico Che Ti devo Di Abbiamo Vinto Vittoria Vittoria Perfetto Qua Già Ci ho attaccato Così Facciamo Un altro Attacco Qua Vediamo Che Facciamo Ok Ultimo Attacco Di Chi Aspetta Vabbè Da Tre Gemme Questo Qua Non Sti Seriani Di Cacca Madonna Che aveva Lì Animali Madonna Di Nuovo L'assedio Tu 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 Vabbè Non Minge Lui Non So Cosa Dio Ah Però Una Stellina È andata Il 27 Quando faccio 70 C'è la Tesla Ok Però 34 Le farà Un milione Però Ma Tu Di cosa Hai visto Sì Con solo Gli arcieri Che devi fare Ancora Tre due Truppe Disponibile Beh Sono ancora Un porto Nei doppio Cannoni Vabbè Vinto Lui Perché Mi interessa Tanno 39 Quando hai vinto Lui Ma butta tutto Tanno Ci sei da più Canani Che fanno Lo sporco Tanno Mi interessa Ultimo attacco Finito Che schifo Di attacco No Però Che schifo Ha vinto Lui Vabbè Bravo Lui Che ti posso Dio Che caldo Tra una volta Ok Quindi Deve servito Il centro Oro E tutto Ci vediamo In un prossimo Video